prendila così prendila così è la mia biazzia oggi buongiorno a tutti oggi è 25 ottobre parlite a vesti vi saluta e vi auguro una bellissima giornata ma c'è bella giornata ragazzi oggi ne ci giornate c'è una brutta giornata a livello di atmosfera pioggerellina lavorare e la posta c'è che faccio oggi con paulilli oggi bello film fanno bene buona giornata auguri a tutti a chi come gli anni ci faccio di sciattene che fanno di sciattene credere che occupate di proprio voglio auguri a tutti buongiorno il buongiorno si vede dal mattino questa è una giornata un po' più vicinosa scemafe scemafe carlino vi ricordate e allora 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 volevo dire che oggi è 25 ottobre è sabato stasare si cambia l'orario voglio vi raccomando per quanto riguarda l'orario dobbiamo dormire un'ora in più allora vi alzate al latte sei in sei sì giusto non mi chiede sì ma non mi preoccupare questo film c'è la bupana allora si cambia l'orario mettete l'ora 100 mettete tutto l'ora 100 non mi preoccupate ecco qua guardate parola che è un paese bella giornata non mi chiede l'ora 100 ma io non mi chiede l'ora 100 ma ma te ne arrivi? ah sì sì buona giornata io dico sempre buona giornata a tutti che Gesù ci siamo alzati a te che è una bella giornata già che ci siamo alzati che è una bella giornata va bene dai vi auguro tutto il meglio che potrebbe succedere non ho una bella giornata perché io voglio io vi do tre partite beh ora io ce le io ce le ce le vedi over a roma under iowinds perchè iowinds ci occupa l'erba ma io non c'è è l'uno del barletto udite udite io ce le ho parlato con iowinds dove io va bene auguro a tutti un'altra volta per chi per chi festeggia qualsiasi ricorrenza vi auguro un'altra volta il meglio ciao barletto e avesse